ciao a tutti e ben ritrovati qui davanti a me oggi ho questi sei bellissimi gomitolini da 50 grammi di questo colore pazzesco un colore che ovviamente si addice alla primavera e all'estate peraltro è un bellissimo cordoncino di cotone e quindi sicuramente si presta per il prossimo lavoro che vi presento quindi andiamo per passi intanto buono spin e seguitemi ma vediamo un po il materiale che ho qua di fronte e ovviamente sollecito sempre ad utilizzare il vostro e quello per la quale siete più comodi io ho sempre a disposizione i marcatori le forbici il centimetro i miei pennarelli anche un gancetto per i capelli e se proprio 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 ve la devo dire tutta ho anche a disposizione una limetta per unghie perché sapete benissimo voi che lavorate il crochet che quando le unghie non sono a posto è un dramma comunque adesso vi lascio a queste iniziali fasi di lavorazione poi vedrete che velocemente ci troveremo alla fine ciao ciao io mi faccio sempre ispirare dal materiale che ho a disposizione e questo immagino che valga anche per voi quindi come già vi ho detto questo bellissimo colore questo tipo di filato questo cortoncino di cotone ovviamente non poteva non essere utilizzato per fare qualcosa di fresco ed estivo arrivano le giornate calde quindi perché no l'idea è quella quindi di realizzare un mini abito un piccolo vestitino copricostume o comunque una veste estiva con dei classici del crochet e quindi adesso vediamo la prima fase e come aprire la lavorazione partiamo quindi dalla realizzazione della parte alta del top ho intenzione di fare quattro triangolini che sono il corrispettivo del due coppe avanti e due per il retro questi triangolini li eseguiamo con questo schema è molto tipico per il crochet è di facile realizzazione ed è anche molto veloce l'avvio per la lavorazione delle coppe è questo quindi è la parte centrale con un cerchio magico poi si sviluppa la prima riga tre magliette più una quarta sono tutti punti alti volendo si può fare anche il doppio punto alto ma ovviamente viene tutto più grande quindi nel mio caso ho fatto punti alti tre punti alti dentro il cerchio magico tre catenelle tre punti alti dentro il cerchio magico una catenella di separazione che qua attenzione non ho fatto ecco qua e poi un altro punto alto nel cerchio magico dunque nel web ci sono degli schemi in cui si parte direttamente dal gruppetto dei tre punti cioè non prevedono questa primissima riga che si forma del punto più la catenella di separazione io preferisco questo perché poi rimane più steso il lavoro ed è più facile poi intervenire sul bordo per sviluppare la gonna dell'abito questo schema si riprete per più righe quindi terminato il primo giro si sale della catenella catenella di separazione tre un punto di separazione e via discorrendo sempre lasciando nel mezzo questo cuneo questa punta formato da tre punti catenella così poi si ha lo sviluppo di questo triangolo ecco per la misura che io ho intenzione di realizzare io ho fatto sette righe ed eccole qua queste sono le sette righe del mio triangolino parto quindi da questo punto magico e sviluppo le mie righe 1 2 3 4 5 6 e l'ultimissima 7 come vedete vi dicevo poco fa il mio schema prevede questo punto che rimane aperto con una catenella di separazione dal primo gruppetto di tre e così facendo vediamo se riesco a farvelo intendere viene questa praticissima riga formata dai punti iniziali che mi aiuta poi ripeto per aggiungere la lavorazione della gonna ne faccio quattro e poi assemblo con un'unica riga di stessa lavorazione tutte le coppe ma andiamo per ordine ed eseguiamo prima le quattro triangolini bene qui ho i miei quattro angolini fatti ecco da una primissima verifica ho constatato che sette righe per me sono effettivamente un po troppe me ne bastano sei quindi partendo dal centro un due tre quattro cinque sei io ho una terza di seno la mia circonferenza punto seno non è molto ampia quindi questa è effettivamente la misura che più mi si addice poi per quanto riguarda l'unione dovete sempre tenere presente il verso uguale per tutti sappiamo che questo schema prevede un andata e un ritorno quindi nel pattern complessivo questa modalità di lavorazione non dà fastidio otticamente però nello specifico se voi tenete sempre corrette queste alternanze quindi finisco con un verso retro e idem dall'altra parte così per tenendo fede per tutte le quattro triangoline ho ovviamente un lavoro omogeneo e ben fatto quindi ci troviamo ora a dover unirle come fare vediamo brevemente qui le ho messe a fianco ho scelto le due centrali che mi segno con un filo colorato come diciamo così fra virgolette le migliori a livello proprio di manualità realizzata e tengo le due esterne che poi saranno girate verso il retro quindi sulla schiena ora il mio urdo riparte non dallo spigolo estremo dove ho terminato in pratica il mio triangolino ma dal buco subito sopra quindi non da questo ma da questo parto proprio da qui perché quando poi mi trovo esattamente dalla parte opposta devo effettuare lo stesso gruppo di tre punti alti per agganciarmi esattamente al triangolino vicino quindi non sullo spigolo ma il primo buco che mi si ricrea rimanendo quindi leggermente più alti quindi parto dallo spazietto alto riprendo arrivo esattamente nello spazietto prima dello spigolo mi aggancio direttamente senza catenelle di intervallo con tre punti alti in quello successivo e così faccio per tutti e quattro fino ad arrivare all'ultimo ed anche qui mi fermo nell'ultima nella penultima spazietto quindi esattamente alla stessa altezza di questo quindi anche di qui non vado fino allo spigolo basso ma rimango così alto e così dallo spigolo dove eramo rimaste dal giro precedente mi sono mossa fino allo spazio successivo con i punti bassi quindi uno direttamente nello spazio che avevo tra i miei gruppi di punti alti uno per ciascuno dei tre punti alti e poi un punto basso che è la prima maglietta del punto alto che adesso andiamo a fare e quindi iniziamo così la nostra unione e il nostro primo rigo di bordo perché poi ne faremo un altro ci troviamo quindi in questa posizione abbiamo detto gli ultimi tre punti alti nello spazio prima dell'angolo senza fare alcuna maglietta di separazione carichiamo il punto alto ed entriamo non nello spazio di angolo ma quello subito dopo ed eseguiamo i nostri consueti tre punti alti uno due e tre in questo modo abbiamo unito i nostri triangolini proseguiamo quindi per tutta la riga esattamente come il nostro schema riporta quindi a questo punto rifacciamo una catenella di separazione e i nostri tre punti alti dentro lo spazietto mi sta terminando il filo quindi mi fermo qua faccio l'unione e proseguo poi per tutta la riga ecco questa ecco questa è l'unione delle mie coppe lo farò anche per tutti quattro i miei triangolini e in questo modo formerò il mio top dopo la prima unione proseguendo la riga ora siamo arrivati all'unione anche del terzo triangolino quindi esattamente come abbiamo fatto per il precedente ci interrompiamo nello spazio prima e andiamo e andiamo direttamente nello spazio del triangolino successivo a creare l'altro gruppetto di tre punti alti arrivata quindi in fondo alla lavorazione sulla parte estrema opposta mi sono fermata quindi nel penultimo spazietto a questo punto mi aspetta il rientro la lavorazione di quello che considero l'ultimo giro dei gruppetti dei tre punti alti mi sposto quindi sullo spazio accanto con punti bassissimi ed effettuo ancora una volta tutto il giro arrivata alla coppa quella che io ho segnato come centrale quindi di mezzo ovviamente mi muovo arrivando sull'ultimo spazio utile e saltando sulla parte opposta senza nessuna catenella di separazione con le gruppette di punti alti mi spingo fino sulla cima e da qua farò partire la catenella per la nostra spallina quindi riprendiamo la lavorazione e saliamo fin quando arriviamo al momento di effettuare la spallina arrivati sul primo spigolo della nostra coppa centrale ci interrompiamo perché a questo punto dobbiamo sviluppare una catenella per la nostra bretellina voi prendete la misura ovviamente del vostro del vostro giro spalla io ho preso un mio una mia canottierina e ho misurato un 15 centimetri quindi 15 per 2 sono 30 farò una catenella lunga almeno 30 in modo tale che avrò la mia bretella complessiva che si andrà ad attaccare alla mia coppa dietro quindi iniziamo con l'eseguire la catenella nel mio caso almeno di 30 cm la catenella della spallina per raggiungere almeno 30 cm nel mio caso sono 45 magliette ho fatto cifra tonda 45 magliette ora c'è la possibilità di agganciarci sul triangolino del nostro top retro e poi tornare indietro a punto basso per riprendere il bordo da questa parte ma io preferisco non agganciarmi dietro lasciare la spallina libera in modo tale da avere la possibilità poi di regolarla a chiusura lavoro quindi così come anche sul retro ho lasciato la possibilità di chiuderlo con un bottoncino molto probabilmente farò anche per la bretella quindi non mi aggancio direttamente al top quindi non la lascio fissa ma mobile per attaccarla poi successivamente e quindi adesso eseguite le mie 45 catenelle torno indietro a punto basso per poi ritrovarmi ancora sul vertice del triangolino della coppa centrale abbiamo così ripercorso tutta la catenella con i punti bassi ci ritroviamo sull'apice del nostro triangolino e adesso rientriamo ancora con il gruppetto di tre punti alti per riformare l'angolo e così agganciamo definitivamente la nostra spallina abbiamo creato la spallina ho detto che la lascio mobile per avere la possibilità di correggere la giusta lunghezza successivamente e quindi qui ho la mia spallina eseguita di circa 30 centimetri questo è il primo triangolino quindi la prima coppa centrale quindi ora proseguo per tutto il bordo fino ad arrivare alla seconda coppa del seno e attaccarmi anche da questa parte con un'altra spallina identica qui vediamo i nostri triangolini uniti su entrambi i lati nella parte centrale qui io considero centrale mentre il retro abbiamo detto che momentaneamente lo segniamo con un marcatore e ancora non lo unisco per agevolare la vestibilità poi della mia veste ho fatto quindi le mie due stringhette di spalline e da questo momento affrontiamo l'altra parte del top perché vediamo qua con questo disegno noi ci siamo occupati di fare questa parte più alta che sono le coppe seno e adesso eseguiamo qualche riga per scendere un po' sul busto queste righe adesso vediamo insieme come farle prima di affrontare l'altra parte del busto fissiamo il vertice dei nostri triangolini quindi avevamo lasciato la parte bassa soltanto con i marcatori adesso sistemiamo tutti i fili che ci sono relativamente alla lavorazione dei nostri triangoli quindi la parte bassa provvediamo ad unirli tranne ripeto quello che rimane dietro che abbiamo deciso di lasciare aperto quindi in questo caso adesso rientriamo con questo filo nel cuneo del triangolino nell'angolo del triangolino opposto e sistemiamo anche i fili iniziali del cerchio magico rientrando nella lavorazione così puliamo tutta la nostra circonferenza e possiamo avviare la lavorazione della seconda parte del corpetto ci posizioniamo così sul retro dei nostri triangolini che io ho momentaneamente chiuso con i marcatori e iniziamo il nostro gruppetto di tre punti alti nel primissimo punto alto che abbiamo sotto e proseguiamo così come spiegato per tutta la circonferenza quindi adesso vediamo questa seconda parte di corpetto i nostri triangolini hanno questo disegno e per la longitudine quindi circonferenza del nostro seno abbiamo come dicevo questa sorta di linea retta che unisce tutti questi triangolini quindi di fatto questa linea retta da questo momento quindi prendiamo la lavorazione e scendiamo verso la gonna quindi ci fermiamo sulla parte del triangolino aperto quindi a vista in bella vista lasciamo aperti dicevamo per il retro i triangolini esterni e partiamo ed inseriamo esattamente come ho disegnato qui i gruppetti da tre una volta sì e una volta no quindi siamo sulla... giriamo così vi faccio vedere eccoci qua siamo sulla riga del nostro triangolino partiamo dal primo gruppetto di tre punti alti e li inseriamo nel primo spazio che abbiamo sulla riga retta quindi un gruppetto catenella quindi saltiamo un gruppetto di tre punti alti e alterniamo i gruppetti con l'intervallo di una catenella una volta sì e una volta no una piccola accortezza di lavorazione quando ci troviamo negli incroci dei triangoli meglio fare un doppio gruppetto di punti alti vicini quindi in questo caso vedete questa è la prima riga ho alternato i gruppetti e sono arrivata allo spigolo del triangolino opposto sempre col gruppetto quando ci ritroviamo sull'altro triangolo ripartiamo dal gruppetto di tre punti alti lasciando sempre una catenella di separazione ecco doveste trovarvi con questa riga non coincidente con l'alternanza dei gruppetti per trovarvi poi con i gruppi alti sempre in prossimità dell'angolo inserite come ho fatto io nel gruppetto centrale della lavorazione un gruppetto di punti alti quindi in questo modo recuperate l'alternanza vedete io anziché lasciare questo spazio ed entrare nello spazio successivo mi sono infilata esattamente nel centro della mia lavorazione esattamente dove avevo fatto in pratica l'anello magico in questo modo ho recuperato l'alternanza giusta dei punti alti e mi trovo così a partire col gruppetti alti e a finire nel menesimo modo ora riprendiamo dicevo l'altro triangolo con i tre punti alti ed eseguo nel mio caso la stessa procedura con il primo giro abbiamo unito la circonferenza quindi rimane aperto solo la parte alta del top sempre sulla schiena e quindi primo giro chiuso dicevamo con una catenella a punto basso con il secondo giro abbiamo ripreso nel medesimo punto in cui abbiamo inserito il punto basso il primo punto alto ed avviato ancora tutto il giro con i gruppetti dei tre punti alti e la separazione di una catenella arrivati in conclusione del giro completiamo il gruppetto dei punti alti inserendo i due nello stesso punto uniamo col punto basso e riprendiamo così per altri giri valutate voi quanto fare lungo il corpetto del vostro top sempre inserendo gruppetti dei tre punti alti nel punto di catenella di separazione grazie a tutti 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 Vado avanti ancora per un paio di giri, poi verifico se appunto indossato la misura è giusta per coprire tutta la parte alta del mio corpetto. Arriviamo poi all'ultimo step, è quello della gonna e come ovviamente approcciare con i punti. Dopo una primissima prova mi sono fermata a 5 righe orizzontali, decido di chiudere quindi la parte alta del mio mini abito ed eseguo come ultimissima riga circolare intorno al busto tutto un giro di punti alti. Quindi un punto per ogni punto sottostante, quindi sono 3 dove ci sono i gruppetti dei punti alti e 1 nello spazio intermezzo. E completo così tutto il giro. Questa è la posizione frontale E qui invece abbiamo il retro. Vi faccio vedere la parte alta, quella che poi ci genera il seno, sulla schiena la lasciamo aperta. Verifichiamo poi se mettere magari dei bottoncini o un'altra stringa, un'altra catenella. Verifichiamo e poi appunto con il giro orizzontale abbiamo chiuso il nostro corpetto. Finiamo quindi di fare tutto il giro di punti alti e poi finalmente iniziamo la gonna. Ecco, per la parte alta di questo vestitino ho già utilizzato 100 grammi. Non ho tantissimo da utilizzare purtroppo per la gonna, quindi vediamo quanto in realtà riuscirò a fare lungo questa mini veste. Nell'esecuzione del giro dei punti alti a conclusione del corpetto, quindi della parte alta del vestito, vi do un piccolo consiglio. Se volete dare un po' più di ordine al vostro lavoro, per i punti alti che state inserendo, eseguite il punto dentro alla testa del punto alto sottostante, così come anche quando vi trovate fra un punto e l'altro ad inserire il punto nella catenella. Quindi normalmente si entra nello spazio e lo si fa libero, diciamo così, e rimane in questo modo. Se però volete fare una cosa più carina, inserite il punto direttamente nella maglietta. Questo è un modo per tenere più ordinato tutto il giro. A livello estetico, poi, in conclusione di lavoro, ovviamente tutto sembrerà più carino. Quindi, quando vi trovate a fare la maglietta, entrate direttamente nella maglietta. Non lasciate libero il punto. Questo è anche, quindi, successivi. Entrate nel mezzo del punto, rimanete alti e prendete solo la parte dietro. Vedete, in questo modo, ripeto, si creerà una riga molto più ordinata e pulita. Tutti i punti sono interni alle maglie. Proseguite così. Arrivati in fondo alla riga, vi trovate la testa delle prime tre catenelle in sostituzione del primo punto alto. E laddove abbiamo il marcatore, inseriamo nella sua capocchietta un punto bassissimo. In questo modo, abbiamo terminato di fare il giro. Conclusa, quindi, la parte alta del nostro corpetto, adesso effettuiamo un piccolo conteggio di quante magliette sono venute e gestiamo meglio il pattern per la gonna. Vediamo come. Iniziamo così a scendere per fare la gonna e, come vedete, ho già fatto le prime due righe. In pratica, la prima riga, dopo quella dei punti alti, è tutta fatta di archetti. Quindi, ogni intermezzo, ogni cinque, vedete, ho agganciato un archetto sempre di cinque maglie. Quindi, quando finisco il giro dei miei punti alti, salgo direttamente con un punto basso nello stesso capocchietto del punto alto sotto, e avvio tutto il giro di archetti. È semplice, veloce, ogni cinque, quindi ogni cuneo e ogni gruppetto, vedete, di cinque, capita proprio nel mezzo, si aggancia un archetto, ripeto, di cinque catenelle. Con il successivo giro, quindi io arrivo a chiudere l'archetto, l'ultimo archetto che faccio di cinque, si dovrebbe chiudere qua. Per trovarmi nel mezzo, eseguo soltanto i primi due punti a catenella, e poi con un doppio punto alto, mi inserisco nell'archetto che ho vicino, e rimango nel mezzo del mio archetto. Da questo momento io salgo a fare il pattern che ho scelto per la mia gonna. Nel mio caso inizio con un punto alto, quindi salgo di tre catenelle, e poi avvio, così come vi allego in schema, tutto il primo giro sulla quale poi si affronterà il disegno che ho scelto. Quindi qui vedete subito il pattern in primissimo piano, e ve lo ripropongo poi successivamente in una slide a parte più chiaro, così ve lo tenete per studio, e come vedete ripetiamo esattamente il pattern che vi ho trasmesso, e fin quando avete filo, continuate, continuate e continuate i vostri giri. Ci vediamo fra un po' di righe per vedere come viene. Questo è il disegno del pattern che ho scelto, vedete sono dei piccoli fiorellini, è il primo giro di fiorellini completi e quindi si ripeterà così per più righe. Un altro piccolo consiglio, se con l'uncinetto 5 vi viene il fiore un po' troppo largo, e quindi perde, diciamo così, la sua visione di insieme, utilizzate magari un uncinetto 4,5, leggermente più piccolo, per stringere di più le maglie. Proseguiamo così, a dopo. Dopo qualche riga di fiorellini, esattamente me ne sono venute una, due, tre fiorellini, mi sono resa conto che stavo scendendo troppo dritto, cioè non rispettavo il mio disegno iniziale di lasciarlo un po' più morbido. Quindi se volete un tubino, diciamo un po' più stretto sui fianchi, scendete senza aumenti nel pattern che vi ho indicato inizialmente. Io ora ho deciso di fare una riga di aumenti per dare la possibilità di maggiore apertura alla gonna. Quindi qui vi ho disegnato il totale dei punti che ho voluto inserire. Quindi questo è il mio disegno tradizionale, quindi nell'ultima riga che ho fatto dei quattro petali inferiori, la riga dei petali superiori l'ho eseguita normalmente per la prima parte, mentre quando mi trovo poi all'unione dei due fiori ho inserito un doppio punto, quindi ho eseguito normalmente, ho inserito un altro punto, il doppio punto alto qui, normale, normale come il mio pattern, identico qui e anche qui ho aggiunto un doppio punto. Quindi ho iniziato ad aumentare lo spazietto che c'è fra un fiore e l'altro. Successivamente sulla seconda riga, per rispettare l'aumento appena parzialmente abbozzato, mi sono buttata a fare tutti doppi punti alti, quindi ho aumentato la lunghezza del punto inserendo per ciascun punto sottostante un cuneo di doppi punti. Quindi la prima l'ho iniziata con la catenella che poi andrò a chiudere quando arriverò da questa parte e poi sempre con le tre magliette di separazione sono entrata con un doppio punto nel petalo alto così che dopo la catenella un altro punto al doppio punto alto lo stesso senza lasciare spazio doppio punto doppio punto doppio punto doppio punto doppio punto sempre con una spaziatura di tre catenelle. In questo modo ho di fatto aumentato tutto il mio giro. Vediamo se riesco a prendervelo da questa parte così come ve l'ho disegnato. Ecco, dicevo, la riga dei doppi petalini ho iniziato ad aumentarla con questo varco. Ops, sono al contrario. Ecco, con questo varco. Quindi qui abbiamo iniziato ad aprirci. Poi ho ripreso il fiorellino e ho sempre rispettato il doppio varco all'incrocio sottostante. L'ultima riga che sto eseguendo è proprio questo doppio punto alto. Quindi mi sono alzata di spessore sempre con un divisore di tre catenelle. Sto facendo tutta una riga di aperture. Questo è il modo per aprirci dolcemente sulla gonna. Adesso sto valutando in seguito a questo di fare tutto un giro di mezzi punti per dare una sorta di chiusura a questa fascia intorno al busto anche per renderla un po' dinamica con il disegno. Dopodiché riprenderò il mio pattern originale di fiori esattamente ripartendo dagli archetti originari di 5 catenelle. Ma andiamo per passo, quindi terminiamo di fare questo giro di doppi punti alti e poi verifichiamo il resto. Sto terminando la riga degli aumenti con i doppi punti alti dentro ai punti incrociati sotto. Ecco, a questo punto devo chiudere la riga però per non trovarmi in difficoltà con il rientro del pattern a fiori io torno a guardare ogni quanto mi si sviluppa il fiorellino. Quindi ho un petalo su un archetto e poi ho uno, due, tre e l'altro petalo sul quarto archetto. Quindi ho un petalo ogni tre archetti. A questo punto conteggio quanti archetti mi sono qui venuti e verifico se li ho appunto di numero perfetto e coerente con lo sviluppo appunto degli archetti qui sottostanti. Ho fatto un primo conteggio e mi risulta un esubero di un archetto quindi a questo punto non lo costruisco qua e chiudo direttamente la maglia sul punto dritto quindi non eseguo il doppio punto alto a chiusura identica all'altro ma elimino di fatto un archetto. Oltretutto, ricordo, sono sempre sul retro del mio vestitino quindi tutti questi movimenti poi rimangono perfettamente integrati sul retro e comunque non si vede perché perfettamente risolti dentro al pattern. A questo punto, abbiamo detto, faccio un punto bassissimo e entro qua. A seguito di questa chiusura, giro ora tutto intorno alla circonferenza con un mezzo punto o un punto basso adesso vedo quello che mi piace di più e definisco così meglio tutta la riga. Fatta anche la riga dei mezzi punti quindi qui abbiamo lo schemino i doppi punti alti che abbiamo visto nel disegno prima gli archetti di tre e adesso tutta la riga dei mezzi punti il prossimo giro lo eseguiamo tutto ad archetti di cinque magliette e ci inseriamo nei due punti bassi in testa ai doppi punti quindi per farvi intendere questi sono i due doppi punti alti che si avvicinano qui sono i due mezzi sopra le loro teste ci inseriamo nel mezzo e così per tutto il giro quindi fra i due doppi punti alti eseguiamo l'archetto di cinque sarà poi sul giro successivo che inseriremo i primi petali ogni quattro archetti quindi saliremo prima con i nostri piccoli petali lasceremo tre archetti liberi e poi ancora i petali sull'altro archetto via con la riga di archetti fatti gli aumenti quindi questa è la prima righetta di archetti ho costruito poi il solito pattern che già abbiamo affrontato nella prima parte del nostro mini abito queste sono già qualche riga eseguita e di fatto inizia a presentarsi in questo modo vediamo se riesco a stenderlo così riesco a farvi vedere anche l'apertura degli aumenti e il nostro effetto gonna ecco qua questo è come si è aperto ora proseguo semplicemente in questo modo ho ancora questo gomitolo che purtroppo sta finendo e un altro da 50 quindi obiettivamente non so quanto riuscirò a farlo lungo ho anche valutato l'inserimento di altri colori ma al momento non mi vengono delle idee apprezzabili perché il bianco fa troppo contrasto il filo, il filato rosa che ho a disposizione è troppo fine da abbinare a questo cordoncino che è un po' più spesso è un 5 quindi meglio proseguire così e sperare che riesca a essere abbastanza lungo eventualmente mi interromperò laddove sarà necessario e vi farò comunque vedere come è venuto anche per darvi un'idea magari voi avete più fortuna avete più fulato a disposizione il mio mini abito si può dire finito almeno il grosso della lavorazione quindi mi sono fermata con la lavorazione della gonna poi lo indosserò vi farò vedere quanto in realtà è venuto lungo quindi sulle cosce ci siamo ed ho avanzato ancora un po' di filato dell'ultimo gomitolo da 50 lo utilizzo per chiudere definitivamente le spalline a questo punto direi che posso affrancarle direttamente ho provato e quindi la mia circonferenza a spalle è a posto ed eventualmente adesso sto valutando se fare un piccolissimo giro tutto intorno alla parte finale con un punto bassissimo o dello stesso colore se mi basta il filo oppure magari di un rosa leggermente più chiaro bene chiuse le spalline le ho direttamente agganciate sul capo dei miei triangolini ho fatto anche una strip laddove avevo lasciato l'apertura per agevolare appunto la vestibilità e direi che a questo punto posso effettivamente decidere di fermarmi in chiusura ho poi lasciato un semplice giro di archetti come detto potete affrontare se avete sufficiente filato magari un altro giro a punti alti per riprendere l'intermezzo o punti bassissimi o scendere ovviamente di quanto volete ora lo provo così con sotto una sottoveste vi posso far capire quanto in realtà è venuto lungo quindi sulle cosce dicevo ci siamo e direi che è proprio venuto un mini 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 abito per purtroppo insomma la mancanza di tantissimo altro filo che mi sarebbe piaciuto utilizzare ma è perfetto per l'estate è traforato e posso considerarlo benissimo un copricostume vedo se riesco anche a darvi un'immagine di come potrebbe essere indossato con sotto un costume e direi che posso chiudere un'ultimissima idea ovviamente siccome il lavoro è identico fronte e retro se viene bene nella complessità tutta la lavorazione potete decidere ovviamente di lasciare la scollatura avanti o di lasciarla in chiusura retro questo è il quanto direi non c'è altro da aggiungere posso salutarvi e se avete dei commenti dei suggerimenti da lasciarmi mi fa molto piacere reggervi alla prossima buono sfino a tutti ciao da Fulvia grazie a tutti grazie a tutti